Oh, sono quasi al castello e Moscaito giustamente non mi ha aspettato. Non so se si nota lassù. Salutami! Aspettarmi eh! C'è la scimmia! Caldissimo! Guardate lì, il lipo pouch! Che freme! Eccoci qua ragazzi! Super esuberotta! Ebbene ragazzi, ben tornati sul canale Distrofpv. Oggi vi portiamo... ah no, forse è il canale Moscaito Fpv. Eh non importa, tanto siamo soci. E oggi siamo venuti al castello di Finale Ligure. E' il Castel Gavone e adesso stiamo andando a piedi a visitare l'ultima parte che è questa torre. Che è la Torre di Diamante. Per via del suo bugnato che adesso vedremo tra poco. L'ascensore non è attivo. Eccoci qua la scala a chiocciola. E qua ci sono gli affreschi, si. Purtroppo Moscaito ha già identificato delle challenge del giorno abbastanza distruttive, Nel senso che o le fai e le chiudi giuste, o spacchi i droni. E abbiamo solo due droni a testa. Con aggressività! Così si riprende. C'è a vedere i dive che si possono fare, però non abbiamo uscita se diviviamo questo. Ah è vero, sono uscita io. Ciao! Abbiamo la nostra guida laggiù in fondo e di qua si può ancora salire. Ah, è vero! Caccia. 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 Il panoramone. Quello che si vede là dietro è fino al borgo, uno dei borghi più belli, secondo me, della Liguria. Allora, fino al borgo è questa parte qui, questa interna. Il primo borgo che si vede. Esatto, lo identificate ha delle mura, c'è un piccolo muro con i merletti ma anche il super view, ciao. Questo è il ponteggio per accedere al castello e ci saranno dei power loop, immagino, lì sotto. Ciao, ciao famiglia! Ah, era duro Prego, prego, adesso fai tu da Cicerons Così io ti faccio cadere la GoPro Adesso ti fai il tuo intro Bentornati Sul canale Mi ascenere la chiocciola Bentornati sul canale No, è Breaking Gita Chissà se riusciamo a passare sta pietra Col segnale video Skyt ha detto, andiamo là No, fino là Sì, che sbatti, non ci voleva neanche venire Mia mamma ha sentito tutte le... Ma io conosco che ti fa entrare Abbiamo il San Pietro del castello L'uomo delle chiave E quindi abbiamo l'autorizzazione di volare Effettivamente Abbiamo l'autorizzazione di volare In uno dei castelli più grandi della Liguria No, penso che sia il castello più grande della Liguria Il castello più grande, sì, così disse Esatto L'uomo delle chiave In uno dei castelli più grandi della Liguria In uno dei castelli più grandi della Liguria In uno dei castelli più grandi della Liguria Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.